Tremonti è sotto assedio, Ministro? Non lo so, chiedetelo a lui. Le mie posizioni sono note, no? Non ci dica che dà. No, sono note, adesso non ci voglio, non mi interessa parlare di Tremonti. Io a Tremonti voglio solo ricordare che questo è un organismo collegiale e che quindi le scelte vanno prese collegialmente, comprese quelle di politica economica, perché io che faccio parte di un organismo collegiale voglio sapere che cosa voto. La frase di Tremonti all'Ecofin la condivide? Ma ho già detto ieri, non condivido proprio niente, quindi sono stato il primo ieri a dire qualcosa. L'ho detto anche in una formula che mi sembrava quasi delicata, viste le mie usanze, e ho detto che a tutti quelli, anche ai ministri più esperti, può sfuggire di dire una fesseria. Lui l'ha detta. Ma maggiore collegialità? No maggiore collegialità, no maggiore collegialità appunto, no maggiore minore. Collegialità, io voglio sapere come tutti gli altri ministri che cosa voto. Voglio avere il tempo per studiarlo, per leggerlo, per proporre qualcosa di alternativo, per vederlo approvato, bocciato. Tremonti quindi non vi interpella? Ma questo non è mai successo, Tremonti è una strana concezione per cui al centro dell'universo c'è soltanto lui, e che a noi non va bene. Il problema è solo Tremonti o il declassamento di Budis? D'accordo, sempre al declassamento. Grazie ragazzi, grazie.